Cari amici Fanta allenatori bentornati da Carmi Special In realtà il bentornato sono io perché sono stato assente un po' di giorni Sono stato a Bologna per un bellissimo evento sul Fanta Un raduno di Fanta allenatori Alcuni di voi erano lì presenti E saluto tutti coloro che sono stati lì Ringrazio per essere venuti e per l'affetto dimostrato E inoltre poi sono stato qualche giorno anche a Napoli Un casino ragazzi Sti giorni anzi chiedo scusa a tutti coloro che stanno aspettando Magari una risposta via mail o su Telegram Sto recuperando poi tutti i messaggi Purtroppo l'analisi tattica della seconda giornata Non sarà tramite video ma sarà in live stasera Chi potrà magari seguirla bene Altrimenti tranquilli che è comunque possibile recuperarla a posteriori Tutte le dirette ragazzi rimangono sul canale nella sezione live Ok? Poi altra news importante Allora Tanti di voi mi stanno scrivendo Toccarmi ma il file 2023-2024 Ragazzi ma dove state? Ma perché? Non guardate i video Recuperate i video Sono la cosa più importante Tutti cercano il file senza guardarsi i video Ma scusate un po' Sveglia picciotti Guardatevi i video Mi raccomando Recuperate i video Ci sono le fasce su Fanta Lab Abbiamo uno strumento superiore al file Quest'anno che è appunto Fanta Lab Sfruttiamolo E le fasce si sbloccano tramite appunto il premium Fanta Lab Mi raccomando Ok? Sveglia Eh? Dai Recuperate tutti i video Sono mesi che ne parliamo Ok? Mi raccomando Ci sono le analisi sulle fasce Portate appunto A inizio agosto Recuperate i video Se volete l'analisi su ogni singolo calciatore Alcune analisi sono già state confermate In queste prime giornate Altre vedremo se saranno Poi più là Confermate o sbendite Oggi andremo a fare un aggiornamento Come vedete io ogni settimana Vado a fare un aggiornamento Ok? Dopo ogni giornata di Serie A E anche oggi Appunto andremo a vedere le modifiche Utilizzerò tra l'altro La sezione O meglio Una sorta di strategia clonata Dove Evidenziati Non vedrete Attenzione agli obiettivi Ok? Sotto suggerimento di uno di voi Che ha avuto una brillante idea di cercarmi Ma perché non cloni la strategia E vai a mettere Evidenziati i giocatori Che sono stati aggiornati E mi piace questa idea Mi è piaciuta Così Magari non dimentico Chi ho effettivamente Spostato Nelle fasce Allora Partiamo dai portieri Cosa ho spostato ragazzi? Provedere lui Patricio Oggettivamente Mi stanno un po' Non dico preoccupando Però penso che effettivamente Potrebbero avere una fantameria Un po' distaccata Dai primi quattro Ok? Con qualche gol subito in più E quindi Li ho abbassati un po' Sono sempre lì Sulla soglia dei top e semi top Però Li ho voluti distinguere Un pochettino di più Rispetto ai primi quattro Ho messo invece Falcone in terza fascia Perché secondo me Può avere un rendimento Buono anche quest'anno Simile magari A quello di Silvestri e Skorupski Ok? Anche di Gregorio Poi è arrivato Beriscia A sostituire L'infortunato Caprile Ok? Ora L'unica cosa ragazzi Ovviamente Considerate che Poi potrà tornare Caprile Non si capisce bene Poi chi farà titolare Magari Beriscia Secondo me è uno di esperienza Che potrebbe tranquillamente Rimanere titolare Ok? Nell'Empoli Per il resto Ragazzi Vi avevo già fatto vedere Che Avevo sostituito Musso Con Carnesecchi Ma L'importante è che Se prendete uno Poi prendete anche l'altro Ragazzi Vi fate La Porta Atalanta Se volete Magari Abbinata Andiamo Sulla difesa Le altre modifiche Ragazzi Non c'è nulla di che Se non Un Sepe Che è A posto adesso Di essere Il secondo Di 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 Adesso Va a fare Il secondo Di Di Provedal Ok Poi Andiamo avanti Con la difesa Per quanto riguarda La difesa Ragazzi Aspettate che Controllo che sia tutto ok Datemi un secondo Ho fatto rallentare un po' Il sito Cambiando la grafica Un secondo Fatemi controllare Se sia tutto a posto Ci siamo Ci siamo Perfetto Per quanto riguarda La difesa Cosa ho modificato Ragazzi Quasi nulla Perché Secondo me La valutazione Che ho dato All'inizio Ci stava In realtà Ecco Dunfries Ho innalzato Un pochettino Nelle fasce Perché Alla fine Mi è piaciuto Questo inizio Di campionato Suo E Il suo costo Che tra l'altro Non è che era basto L'avevo messo Già sopra il 3% Però secondo me È quasi Un top Magari potrebbe essere Dunfries Ovviamente Un po' di minutaggio Piamanti Gli sarà tolto Da Quadrato All'occorrenza Anche Darmian E O Pavard Quindi Una situazione Un po' Strana Da quel punto Di vista Non fate Follie Però Ecco Lo valuto Un po' Di più Gli altri Giocatori In realtà Non li ho Spostati Perché Secondo me Appunto Io ho Io ho dato Una valutazione Abbastanza simile Forse potrebbe Bastare Leggermente Toloi Però Ragazzi Nulla di che Chi ho alzato Ho alzato Leggermente Ciao Emile Enkovic Ok In basso Alla terza fascia Perché mi aspetto Una Fanta media Proprio Di questo tipo Cioè una media Voto Magari Del 6 15 6 20 Magari Però una Fanta media Con qualche Cartellino Che scende A 6 Ok Vedremo Poi Magari Se ci sarà Anche qualche Gol Da calcio D'angolo Che alzerà La loro Valutazione Ho bastato Invece Marusic C'è un pochettino Ok Perché Diciamo Non mi sta piacendo Questo inizio Di campionato Potrebbe prendere Diverse insufficienze Come sta facendo E poi Invece Qui non ho cambiato Nulla Nello costo Di quarta fascia Ma ci sono Come vedete Ndick E Nathan Che erano In terza fascia E li ho spostati Nelle scommesse Oggettivamente Ragazzi Ad oggi Comprarli È un po' Una scommessa Perché magari Si potranno Prendere il posto Da titolare Ma ad oggi Non lo hanno Ancora fatto C'è anche Cambiaso Ha aumentato Un po' Il suo valore Ragazzi Ad oggi Potrebbe giocare Effettivamente Molte partite Ed essendo Un giocatore Anche con qualità Tecnica Potrebbe portare Magari Qualche bonus Il suo indice Di titolarità Ragazzi Ovviamente È un po' Più alto Qui mi si devono Aggiornare Quelli standard Ok Però Io lo metto Direttamente Io A 3 Su 5 Poi Vediamo Se c'era Qualche altra Scommessina Che ho spostato Nulla di che C'è Pedersen Che ho inserito Qui nelle Nelle scommessine Ragazzi Ma Lo sapete Io Difensori Del Sassuolo Non li andrei A prendere Ok Ruggeri Ranieri Sono scommessine Che si possono valutare Ma Magari Potreste Trovare Altro di meglio Ok Lo stesso vale Per qualche Outsider Che Però va Valutato Magari Più Avanti Ok Andiamo a vedere I centrocampisti Adesso Vediamo un po' Vediamo un po' Per quanto riguarda Il centrocampo Ragazzi Ho spostato In cima Pulisic Perché Perché Mi sembra Un giocato Il computer Mi sta esplodendo Ragazzi Se vedete Un po' Di lentezza Non è fatta L'abbiamo Il mio computer Che Mi sa che Si sta Scaldando Tanto E Dicevo Pulisic Praticamente Ragazzi Mi sta Piacendo Troppo Come Come è Iniziato La stagione E se effettivamente Non si infortunia Se non Ha problemi fisici Secondo me Può fare una stagione Devastante Alla Zaccani L'anno scorso Ovviamente Sempre nel vivo Delle azioni del Milan E questo Può portargli Una altissima Fanda media Magari Non del 10 25 Come ce l'ha Adesso Però ecco Magari Si può Avvicinare Al 780 790 Sarebbe una statistica Molto importante Tipo quella di Quara L'anno scorso Quindi Attenzione E Poi Abbassato Un pochettino Ciucqueze Perché Ragazzi Oggettivamente Ha un po' Di più Ballottaggi Tant'è che Forse Gli abbasserei Anche Le titolarità Quello di default Infatti Mi pare Forse 3 su 5 Adesso Però vabbè Avrà anche lui Le sue chance Da titolare Ovviamente Non è che L'ho abbassato Tantissimo E comunque Un giocatore Che può fare La differenza Durante la stagione E Poi Qui cosa abbiamo L'Inström Ragazzi Il nuovo acquisto Del Napoli A me piace molto Lo sono già Andato ad analizzare E Magari Ve ne parlerò In un video Apposito Però Ragazzi A me piace tanto A qualità Nell'ultimo passaggio Anche devo dire Un buon tiro Sia dalla distanza Che Anche appunto Da dentro l'area E Devo dire Che ha Un'interessante Accelerazione Magari A livello Di velocità Massima Ho visto Di meglio Ma in termini Di proprio Dribbling Quindi di accelerazione Nello stretto Mi è piaciuto Molto Quindi Ho fatto un'analisi Su di lui E il verdetto È che Secondo me Potrebbe avere Un bel rendimento Da semi top Infatti L'ho messo Insieme a Rabiot Kamada Vicino a Zelisky Candreva Candreva Forse lo potrei Alzare un pochettino Perché Veramente Può Può essere Una stagione Devastante Da parte di Candreva Poi Altri nomi Che ho spostato Particolarmente Colpani Colpani Anche sotto Vostra richiesta Ma in realtà Ragazzi Era uno dei nomi Consigliati Anche del Vi consiglio Al Fandacalcio Recuperate Quei video Se non li avete Ancora Recuperati Anche il Vi consiglio Al Fandacalcio Ragazzi Mi raccomando Qua è tutti i video Sul Vi consiglio Al Fandacalcio Molti di questi nomi Già Li ho come detti Azzeccati Tipo Giru Messo nei crack E sta facendo Il devasto Anche Colpani Come detto Ho alzato Ho abbassato Leggermente Invece Se vedete Kostic Che ha messo Chiaramente Nelle scommesse Ad oggi Poi Arrui Raffia Alzati Raffia E Arrui Arrui In teoria Può andare Tranquillamente In terza fascia In teoria Essendo anche Ad oggi Rigorista E' partito A bomba Titolarità Poi avrà Indice 5 Perché non credo Farà panchina Anche Raffia In teoria Indice Possiamo mettergli Già 4 Almeno E 5 Arrui Li vado ad aggiornare Io direttamente Ma quelli di default Tranquilli Che si andranno Ad aggiornare Proprio In questi giorni Poi Cos'altro Folloruscio Ragazzi Perché Non gli ho aggiornato Ancora io L'indice Io lo aggiorno Subitissimo Anche Folloruscio Vedete che era Nelle scommesse L'ho messo Poi qui Nel Quarta fascia Anche Baez Mi sono dimenticato Di evidenziarle Alla fine Me ne sto accorgendo Solo adesso Benissimo Carmi Poi cos'altro Spostato Qui Nulla di che Artur Melo Che potrebbe Essere una copertura Da quarta fascia Perché comunque Buoni voti Li prenderà Così come appunto Duda Questo giocatore Così E idem Ramadani Ho bastato Leggermente Ranato Sanchez Ragazzi Mezzo acciaccato Si alterna Lascia restare Poi Nelle scommesse Chiaramente Samarzys L'ho alzato Un pochettino Ma l'ho lasciato Comunque Nelle scommesse Ho alzato Leggermente Anche Ndoie Perché Oggettivamente Mi sono piaciuti In questo inizio Ndoie Mi aspetto Ragazzi Cose buone Ho abbassato Come vedete A punto costi Ce l'ho messo Qui nelle scommesse Perché ad oggi Lo è Vedremo se Partirà In questi ultimi Due giorni Mercato Oppure resterà E avrà Ballottaggio Con Cambiaso Eilin Junior Sono tanti Lì Per quel Ruolo Vediamo se c'è Qualche altro nome Non mi pare Nulla di che Ragazzi Qui non ho modificato Granché E neanche Nei Nei Low cost Ovviamente Il calciomercato Delle ultime Ore potrebbe Cambiare qualcosina Quinta Mezzo Vesino Vedete Li ho messi Negli outsider Perché comunque Stanno avendo Poco spazio Idem Machin Ok Sono tutti giocatori Che ho tolto Magari Dalla quarta fascia Perché Non sto avendo Segnali Particolarmente Positivi In questo inizio Di campionato Passiamo Passiamo avanti Aspettate che Andiamo in attacco Se il mio computer Non esplode prima Ragazzi Purtroppo Mi sa che Siamo dei pc Nuovo Anzi Ringrazio Ragazzi Tutti coloro Che stanno Sostenendo Il progetto Tramite la pagina dp Allora Vlauic Vlauic Sono stato Un po' Costretto Ad alzarlo Ragazzi Oggettivamente Nel senso Che L'avevo già alzato Un pochettino Dopo la prima giornata E oggettivamente Ad oggi È il quarto Attaccante Ed è giusto Magari Pagarlo Un po' Di più Ok Magari Non andrei A spendere Il 30% Come magari Per gli altri Tre attaccanti Ma Lo pagherei Comunque Di più Di vari Di Bala Quara Berardi E Leao Ok Vi ho abbassato Un po' Di Bala Per il discorso Infortuni Poi Giru Ragazzi Vedete L'avevo già messo In cima Ai semi Top Quasi quasi Può entrare Nei top Ragazzi Vi avevo detto Che con dei giocatori Molto forti A supporto Avrebbe avuto Molte più occasioni Anche dal dischetto Chiaramente Quindi come vedete In terza fascia E semi top Non ho toccato Quasi nulla Ragazzi Le valutazioni Secondo me Rimangono Ad oggi Un po' Simili Ho inserito Christovic Petagna E Chedira Li ho modificati Un po' Nel senso che Petagna Ecco L'ho tolto Dalla terza fascia L'ho abbassato In quarta Sta andando Al Cagliari Potrebbe In attesa Che torni Poi La padula A essere La punta Titolare Quindi Valutate voi Da quel punto Di vista Ovviamente La titolarità Di Petagna Potrebbe scendere Di sicuro Possiamo togliere Il titolarissimo Che aveva Magari Prima Ok Quindi Gli vado a togliere Anche la nota E ora Mi devo ricordare Di andarlo a togliere In realtà Nell'altra fascia Perché questa è Quella clonata Grandissimo Carmi Mi devo ricordare Tutte le modifiche Che ho fatto Qui in live Nella registrazione Altre modifiche Ragazzi Ma nulla di che Ho bastato Leggermente caso E poi Zapata L'ho alzato Perché ad oggi È comunque Una scommessa Ok Anche perché Ci sono voci di mercato Su di lui Non si capisce bene La situazione Però Ad oggi È un giocatore Che comunque Può fare la differenza Fanta calcisticamente Parlando Carson Intorno al 4% Ma lo sapete I prezzi Per gli attaccanti Di low cost Sono molto indicativi L'unica cosa Che mi preoccupa Di Carson Sono i ballottaggi Con Doie Con Orsolini Con altri giocatori Che stanno arrivando Lì in attacco Nel Bologna Insomma Ci sono tanti nomi Zilkze È un altro nome Che invece È un modificato L'ho alzato Un bel po' Mi sta piacendo In questo inizio Di campionato Vedremo Se il Bologna Andrà A un po' Ad acquistare Un altro nome Per la punta Oppure se si affiderà A lui Che comunque Sta giocando Abbastanza bene Cambiagli Cambiagli È andato All'Empoli Anche lui Prende valore Ragazzi Ha già fatto bene L'anno scorso E lui potrebbe essere Una scommessina Tra i low cost Molto interessanti Molto interessanti Amzun Amzun e Sanchez Nuovi arrivi Per la Roma E per l'Inter Sono nomi Da avere Low cost in panchina In reparti Già completi Perché Non sapremo mai Come utilizzarli Quindi attenzione Prendiamoli A poco In reparti Già completi Ho abbassato Leggermente Okafor E un pochettino Forse anche Isax In altri nomi C'è Caio Giorgio Che va al Frosinone Attenzione Che questa Mi sembra Una scommessina Molto interessante Io metto Direttamente Il 3 Di indice Di polarità Potrebbe Essere molto interessante Questa Questa cosa Poi Altri nomi Ragazzi Nulla di che Basta Basta Non ho modificato Più Più nulla Direi Va bene Ragazzuoli Occhio sempre A calciomercato Tranquilli Che in questi giorni Io Andrò A modificare Le fasce Praticamente Ogni giorno Ok Basta fare Importa Fasce Creators Se avete il premium Chiaramente Selezionate Carmi Special Vedete 30 08 Lo andate Secondo me A Mettere Qui nel nome Strategia Così Le distinguete Le strategie Attenzione che non è che vi si sovrascrive Ma vi si crea Una nuova strategia Con le mie fasce Ok Andate A deselezionare qualcosa Se volete deselezionare Altrimenti se le volete Precise Le andate ad importare Direttamente Poi Una volta che le importate Le andate a confrontare Con quella che magari Avete personalizzato Dove avete gli obiettivi Per eventualmente Andare a fare voi Le modifiche Ok Ma in ogni caso Anche questo video Vi può servire Già Per darvi Gli input Di modifica Ok Ma se invece Non avete toccato nulla Ok Vi consiglio di Importarvi la nuova Cancellare la vecchia E amen Potete anche clonarvele Ok Se volete poi Confrontarle Diciamo In che ne so Le aprite in schede Difficulti Le andate A clonare E a Diciamo Confrontare Va bene Mi raccomando Detto questo Come detto Ci vediamo Stasera In live Per l'analisi Della seconda giornata Quindi parliamo Della seconda giornata Faremo un po' Di indizi Un po' Di indicazioni Su come è andata Quali nomi Si sono messi in mostra E quali attenzionare In vista anche Delle asse O di riparazione O le asse In generale Di settembre Ok Mi raccomando Utilizzate Fanta Lab Ok Anche in modalità Asta Guardate lì Che figata ragazzi C'è tutto Tutto C'erano le fasce sotto La guida all'asta Gli avversari L'analisi asta Uno strumento Clamoroso Clamoroso Ragazzi Io vi dico L'abbiamo utilizzato Anche per C'è stata l'asta Degli Elitz Ad esempio Hanno utilizzato In live Fanta Lab E' stata Una pazza Cioè Una Una Clamorosa Divertentissima Così come appunto Quelle che abbiamo fatto live Qui sul canale Quindi ormai Fanta Lab Ragazzi Parla da solo Testatelo Divertitevi E come dico sempre Un Luna Park Per i fantallenatori Va bene Detto questo Io vi auguro Buona fortuna Anche per la prossima giornata Ci vediamo Domani Con i consigli Di giornata Ma ci vediamo Anche stasera Con l'analisi Della scorsa Non mancate Mi raccomando Non mancate Un abbraccio Da carne Ciao Ciao